Sono 205 di cui 83 segnalate all'autorità giudiziaria le posizioni irregolari riscontrate dai carabinieri del NAS in ospedali ed RSA nei controlli effettuati da metà novembre in tutta Italia. Emersi diversi casi di esercizio abusivo della professione, in particolare riguardanti lo svolgimento di attività infermeristiche senza iscrizione all'albo, sempre più frequente il ricorso a cooperative esterne per la fornitura di figure professionali, tra cui medici ed infermieri, ed impiegate pur non soddisfacendo la specializzazione richiesta.